Ma che è, secondo me l'ho sempre detto, gli avversari politici vanno sempre rispettati, non vanno sopravvalutati, non vanno sottovalutati. A me, l'ho detto più volte, spiace di dover avere un avversario nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, perché considero che tante battaglie sono comuni, anzi noi tante cose le abbiamo realizzate, quindi io parlo all'elettorato sinceramente dei 5 Stelle, a di là della candidatura di Brambilla, perché credo che insieme possiamo rafforzare la costruzione di una città autonoma rispetto alle politiche del governo Renzi, sui beni comuni, sull'acqua pubblica, sull'ambiente, sulla questione morale, sulla lotta alla corruzione, alle mafie. Napoli credo che è una città molto difficile da governare. Noi abbiamo dimostrato di fare la rivoluzione governandola, abbiamo fatto con un'esperienza istituzionale forte che avevo anche io personalmente, abbiamo creato una forte connessione sentimentale con la città, ben vengano tutte le candidature, noi andiamo avanti per la nostra strada, rispettiamo tutti, siamo pronti a fare la campagna elettorale punto su punto, questione su questione, problema sul problema, un corpo a corpo con tutti, quindi così come non temiamo Lettieri, il candidato o i candidati del PD e gli altri, così anche Brambilla dalla Brianza lo rispetteremo e ci andremo a confrontare anche con Brambilla.